Il progetto SIDIGME da oggi si ritrova a Barcellona per due giorni di conferenza internazionale a carattere euro-mediterraneo proprio per rafforzare quello che è stato il partenerato iniziale tra italiani, spagnoli, tunisini e giordani. Il discorso sull'agricoltura urbana e periurbana ha una grande aderenza con le problematiche che attraversano il nostro bacino dal nord al sud e dall'est all'ovest. Lo sviluppo agricolo in ambito urbano e periurbano è una delle sfide principali che le comunità attorno al Mediterraneo devono giocare e vincere per affrontare problemi di natura sociale, ambientale e soprattutto economica. Questa convergenza e allargamento e rafforzamento del partenariato è stato reso anche possibile all'attiva collaborazione sin dall'inizio nella fase di ideazione del progetto anche se poi non ha avuto alcun ruolo formale all'interno ma ha agito da facilitatore in tante circostanze nell'unica rete permanente di città mediterranee che fu costituita a Joan, il segretario generale, nel... 1991, continuo, si, Medicitis fu costituita nel 1991 a petizione di quattro organismi internazionali che volevano sviluppare il medio ambiente urbano e che hanno sentito il bisogno di collaborare con la municipalità per essere più effettivo, visto la caratteristica di centralità eccessiva di molti del governo del paese, del sur e del resto. E hanno demandato in quel momento a una delle due organizzazioni mondiali di città, che era la Francofona, la Federazione Mondiale di Viljumere, di costituire la rete. La rete si è costituita una città per paese, in Barcellona, in novembre del 1991, con questo oggettivo. Pronto, abbiamo passato del medio ambiente urbano all'esplopo sostenibile urbano, perché abbiamo visto che parlare solo del medio ambiente urbano in città dove hanno molte altre priorità, molte altre necessità non coverte, era molto difficile dover integrare nella sintesi che ha tra pochi anni avanti, nel 1991, nella conferenza mondiale dell'ambiente urbano del sanismo, che era un concetto di sviluppo sostenibile giustamente a peticione del paese del sur. La rete ha cominciato con una metodologia di fare un'auditoria ambientale, un inizio di strategia, e dopo sviluppare dei progetti che si hanno priorizzato in questa strategia. Questa metodologia la stiamo seguendo a livello di sviluppo sostenibile, ma io direi che con il tempo si è rafforzato molto il tema della governanza, più che il tema tecnico. Il tema tecnico si è mantenuto, ma si vede che per le città mediterranee e quello che è importante è fare una buona gestione della sua relazione con la sua cittadinità, con il suo governo, e che la cosa funzioni bene. Per questo stiamo lavorando molto con le strategie di sviluppo urbano, come un strumento, edificio d'odore, di una visione della cittadinità di attuare nel futuro e le strategie di sviluppare il progetto per sviluppare. Voglio sullegnare stesso che in tutto questo periodo noi abbiamo avuto uno, due, tre, quattro presidenti, quattro presidenti, sindaco del Rone, del Rutelli a Marino. Marino è stato un mese perché ha detto che quando è entrato ha molte cose a fare e passo il rilevo. Molto contenti e speriamo di rinforzare più e più le relazioni con Roma perché per noi è fondamentale. Io dico sempre che, come sempre, il Mediterraneo è una cosa tra Roma e Cartago.